Massimo, ciao Vittoria! Ma eri al bagno? Bell'altro i bimbi, dove stanno? Eh, sono tutti e tre rimpiattati in casa. Scaria subito i soft beer, così si gioca a carte online. Ma perché non si può giocare a carte onde tavolino? Massimo, Emo, guarda lì in acqua. Ma è un cadame. Quella mareggiata ce l'ha portata anche a domicilio. Mancazza è della polizia. Come ti posso dire, è una polizia simpatica. Simpatica, brava. Va bene, sono un caso disperato. Però mantengo una certa dignità. Semmo solo essere i fragili di fronte alla natura. Dico però, è meglio che ci vai piano con questo. Comune, ultimamente tu sei di una perspicaccia. Slash arbuzia straordinaria, lo sai? Perché la Fusco ti stava prendendo in giro, eh? Slash per il culo. Bella la convivenza forzata, eh? No, con Pasquali non è convivenza, è carcere. È il pennello grande. Non può fare con questo piccino. Ma no, per una grande cazzata serve un grande pennello. Bimbi, bimbi, oh, ma mi sentite o no? E se li bloccava un'altra volta. Ma un'è che gli è venuta una paresi? Chi è?